Il Tar Abruzzo ha dato ragione alle associazioni dei consumatori iscritte al CRUC, il Consiglio regionale utenti e consumatori, per il mancato coinvolgimento delle associazioni stesse in sede di elaborazione del contratto di servizio stipulato con Trenitalia per la gestione del trasporto regionale per gli anni 2015-2023. Il primo effetto della sentenza che è stata pubblicata il 26 di marzo scorso e che ha visto accolto il ricorso sia nella parte generale che nelle singole censure che i ricorrenti hanno proposto è di impedire l'aumento del costo del biglietto ferroviario se non giustificato da un miglioramento della qualità del servizio. Ce ne sono alcune di impatto immediato e che costingeranno la regione Abruzzo a modificare integrando il contratto di servizio che ha firmato con Trenitalia. Questo è l'impatto immediato. Altro effetto è quello di impedire che i parametri della qualità vengano decisi nel segreto delle stanze fra regione Abruzzo e Trenitalia, senza cioè la partecipazione dei cittadini tramite le loro associazioni. Tutti gli enti locali, comuni, province e regioni, ogni volta che firmano un contratto per offrire un servizio alla collettività, devono far partecipare alla firma di questo contratto i cittadini tramite le associazioni dei consumatori. Ma l'aspetto più importante, secondo me, è che ci rende un pochino anche orgogliosi. Sapete qual è? È che questa legge esiste dal 2007 e nessuno l'ha mai applicata. Tutti lamentano la mancata applicazione, ma non c'è nessuno in questo straccio di paese che avesse fatto un passo perché una legge esistente e favorevole ai cittadini trovasse applicazione. L'abbiamo fatto per primi in Abruzzo ed un pochino siamo contenti di questa cosa qui. Grazie a tutti.